A causa del Covid la struttura di via Maurizio purtroppo per molto tempo è rimasta chiusa. Oggi finalmente la riapriamo non solo alla parte est della città, ma ai nostri quartieri. Un punto di riferimento per i nostri cittadini che passa da una gestione diretta del Comune di Vicenza, passa a una società gestore che sia da riferimento alle realtà associative che possono trovare spazio all'interno di questa struttura, ma anche di tutti quei cittadini che vorranno rivolgersi alle attività non solo aggregative, ma anche sociali, culturali e sportive. Un punto di riferimento che vuole essere spazio non solo per i giovani, ma anche per gli adulti e per gli anziani nei quartieri di questa parte della città.